Oggi siamo venuti alla scoperta di una fiera qui vicino ai nostri quarti e non potevamo non andarci c'è qualsiasi cosa quindi che si fa non si va noi siamo a Scandicci ragazzi oggi andiamo alla fiera di Scandicci guardi che parco vi ho portato un video così ragazzi beh abbiamo un parco e andiamo via non hai fame ora è un po' presto come è un po' presto è mezzogiorno Grazie a tutti Questa sta morendo questa ecco io si fa tutto il giro e poi dopo si mangia mi vuoi fare patidio Eh infatti c'è Caffetteria del vento del cano con lecchino con le faglie Luce ciao Finita eh oggi morirà lei Oh dove sei andata? Ma ci sono qui ? Ah bravo ma si è andata e la Gabriele che è andata Madrid Ma qui non ci capisco più nulla c'è la porchetta si vabbè morite via questo video sarà un madonna un madonna quanto è buono guarda quanto è bello guarda lì qua bella cipolla madonna di chedi ma di nuovo un po' di chedi qui si muore ho scelto cosa il ristorante arabo eccolo lì voglio andare a vedere che cosa c'hanno andiamo bella madonna vai fa vedere cosa abbiamo preso intanto cosa abbiamo preso intanto con una falapel e uno stice ah ma sono lì dentro certo cosa vedi dentro ci interessa vedere dentro è pieno però sa di cipolla sa di piccantino di cipolla è buonissima ma poi si vede che roba fatta lì ci scioglie ci scioglie e poi abbiamo preso questi ah ma questi sono falapel però non sono sì sono falapel sono famosa sono e che so vabbè sono famosa dimmi cosa ne pensi se riuscisse a mangiare è buonissima vero è un pane non vedo che mi senti te l'ho detto senti tutto è veramente buono spessi sì senti come senti ogni morto quando l'ho mai insomma stai senti tutti i sapori in un secondo senti l'umus senti i ceci mangia uno di quelli mangia ora tre quelli questo lo so vai addenta tutto fai lì intanto lo spazio penso gli viene a leggere il manistra unte brucia con chiesa di pori con le verdure è buono perché è fritto è buono perché per cui si sente almeno fresco è buono quando posso sfogliare è un po' unta è buono è l'ultimo che ti fa sentire il gusto è veramente buono ciao è finito uno era veramente buono è buono è buono è buono è buono secondo round un goccino è un goccino la finisce della roba un goccino vai ripara tutto mangiare rossicciana quale vuoi vuoi stare qui non c'è neanche il ketchup questo è il ketchup e la marina questa è lui che comincia a mangiare intanto dividerà rossicciana rossicciana no rossicciana non è tutta è rossicciana salsiccia e spiedini di pollo con i peperoni buono la fumma io a casa quella è buona mi dispiace ma io mangio guarda bella quella cucina lì sì tutto bello quindi ora siamo a Ravento e casa e quindi ora che cosa si compra si la casa nuova di Bona che si compra ah la casa nuova ah si ah io una una di quelle poltroncine me la comprirei io sono quelle lì da massaggio quelle lì da massaggio bello ho compreso il programma che io ho qui dopo si è di che parli ma di di quello che mi dicevi prima alle 4 parlo di tutto di quello che mi dicevi prima alle 4 sono invitato che c'erano quelle di venerdì e sabato vero domenica e domenica c'è questa è schiappata con cannone o mano ragazzi ha detto se ne va cazzo c'hai il mano cazzo che corri con un cannone o mano non sta bene questa ragazza ma da cazzo come ti vuoi se devi scappare dal cannone con il cannone o mano te ne vai mi voglio sentire dove vai ma metti là metti là se c'è anche il panchino là ma dove sono ciao allora cannone con beh perché lui l'ha voluto scegliere con la cioccolata che cambiasse mangia sempre lo pistacchio basta ora io assaggio su una pepe ho metto lo tuo coglione con questa crema di pistacchio ma non c'era la crema di pistacchio c'era la granella dai basta io voglio la crema non voglio la granella che parti sono questi è buono è buonissimo ma noi abbiamo mangiato a Palermo a Catania è buonissimo Napoli abbiamo mangiato mi sa anche forse è buonissimo è buonissimo la pasta scrocchia poco rispetto a quelle di Jukinson sono belle dure sono ma c'è questa ricotta che è buonissima è una cosa mamma mia ma mordi anche la parte del cioccolato cioè lascia una parte normale anche a me cioè se ti ingorda sai te cioè questo ragazzo non ti lascia niente da mangiare ma quando sviana sviana ho capito che c'hai qualcosa nello stomaco ma e qui scrocchia di più scrocchia secondo me è un po' l'umidità la ricotta di là secondo me penso quella parte lei avrò detto secondo me dieci volte va bene lo stesso com'è con il cioccolato e la ricotta buonissima ce lo schiaffano tutto poi vediamo cosa c'è ebbene sì ragazzi anche questo video finisce qui quindi vi chiedo una cortesia gentilissima di iscrivervi al canale mettere like commentate e niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao